Siamo allo Stadia Reiki, come potete vedere alle nostre spalle la Senetana riprende gli allenamenti a porta aperte. La scorsa settimana li aveva ripresi e ha subito vinto in casa con il Novara con un gol di Donnarumma. Vedremo cosa accadrà questa settimana. Siamo purtroppo tutti difensori, è un periodo un pochino negativo per tutti noi. Sto un po' meglio, non ancora al 100%, però domani credo che mi tocca perché siamo solo due difensori disponibili e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Andare lì all'Atena, pensare a fare una grandissima partita e dobbiamo cercare di portare a casa dei punti che devono fare classifica e ci servono per il prossimo del campionato. Sicuramente il successo alla Reiki ci deve dare ancora più fiducia, che siamo una squadra forte e che ce la possiamo giocare con tutte. È vero che fuori casa purtroppo ci manca questa vittoria e speriamo che arrivi domani perché siamo in un buon momento e speriamo di proseguire così sulla falsa onda di domenica scorsa e quindi speriamo di vincere questa partita. Sicuramente in Serie B lo conosciamo tutti il campionato di B, basta che fai due o tre risultati utili consecutivi, ti ritrovi magari nelle zone più alte della classifica senza neanche accorgertene. Quindi, come ho già detto prima, a noi in queste partite ci mancava la vittoria, venivamo da buonissime prestazioni e però ci mancava la vittoria. L'abbiamo raggiunta domenica e quindi dobbiamo proseguire su questa strada perché se no buttiamo al vento tutto ciò di buono che abbiamo fatto nella partita precedente. Sì, le prestazioni già da 5-6 partite che comunque sono convincenti, però c'erano stati degli errori per cui il risultato non era mai venuto fuori. Però adesso abbiamo vinto in casa col Novara, giocando anche bene, quindi dobbiamo dar continuità assolutamente. Sappiamo che a Latina non sarà facile, ma non sarà facile in nessun campo, quindi cercheremo assolutamente di andare lì concentrati e cercare di vincere. Ma noi alla fine questo assetto l'abbiamo comunque sempre avuto, quindi poi il mister ha deciso e decide lui quali sono gli interpreti, però la Serenitana alla fine non ha mai giocato male, a parte una parentesi, però in questo campionato, quindi chi gioca gioca fa sempre un ottimo lavoro. Appunto c'erano mancati i risultati, quindi noi dobbiamo andare avanti, siamo tutti ragazzi che ci alleniamo e siamo pronti per giocare. Quindi il mister poi dobbiamo metterlo in difficoltà per le scelte e poi decide lui la formazione. Ripeto, abbiamo dimostrato che chi ha giocato ha sempre dato il suo contributo.